Le regole messe in campo per Ascione, per lei non bastano per controllare questa curva dei contagi? No, ma io vorrei sapere quali regole ha messo in campo, che non lo so, non lo so. Secondo me ci vorrebbe una stretta, una stretta, e controlli capillari proprio, capillari. E non sono solo i giovani, ma anche le persone. Le persone anziane senza mascherina. Davanti ai bar che si trattengono, 3, 4, 5, 6 persone. Poi sareste d'accordo all'arrivo dei militari? Certo, forse solo così si potrebbe risolvere. L'aumento dipende, c'era qualche focolaio, però il fatto che non ci siano controlli, tu vuoi mettere le leggi come tu, però se non le fai rispettare la gente, purtroppo dopo un anno si è sconciata di stare in casa. Credo che più che dipendere da Ascione, dipendono dallo senso cittadino, dai cittadini. Sì, secondo me avvengono nelle famiglie, non fuori bar e ristoranti. Ecco, quindi per lei quello che è andato storto diciamo in questo mese? Sono state le feste di Natale. Gli assembramenti in casa? Sì, non sono state eseguite le regole. Per lei non funzionano le regole? Non funzionano perché ci sono assembramenti, molti ragazzi senza le mascherine. Noi anziani cerchiamo di attenerci alle regole, però i ragazzi vede che purtroppo non lo fanno, quindi ci vorrebbero più controlli. Ecco, ma quando lei parla di controlli, parla di controlli locali o per una situazione del genere a Torre? Io parlo dei controlli locali, mi riferisco alla situazione. Perché alcuni hanno anche affermato che nella situazione in cui si trova a Torre forse sarebbe il caso che arrivasse l'esercito. Sì. Quindi lei nel caso sarebbe d'accordo per un controllo così stretto come quello dell'esercito? Senza altro, senza altro. C'è bisogno di un maggiore controllo. Ora, che sia l'esercito o le forze locali, poi vediamo. Forse è che ci sia più controllo? Sicuramente sì. Io vedo che nessuno non camminano senza la maschera, camminano con la maschera, cioè noi non abbiamo capito questo. Sì, ma è di qualità il problema, la previsione. Se facciamo attenzione andiamo bene, se no no.